L'occasione del concorso LED, Light Exhibition Design, ha portato con un workshop dedicato ad approfondire la situazione attuale del mercato dei sistemi a illuminazione a LED. I traguardi raggiunti, i settori di utilizzo, i progressi tecnici attesi per il prossimo futuro e le principali norme relative alla sicurezza elettrica e alle direttive comunitarie in materia di efficienza energetica. Abbiamo sentito il parere di Alberto Ugetti, General Manager di Underwriters Laboratories. Nel panorama illuminotecnico del settore illuminazione il LED rappresenta un cambio epocale non solo per quanto riguarda i costruttori ma anche gli ordini normatori e certificatori in quanto si rivoluziona tutto l'approccio normativo non solo in Europa ma anche in Nord America. Per questo siamo qui al fianco del Comune di Milano per fare collagene tra design e costruttori in modo di avere nuova tecnologia prodotti sviluppati in alto design e che rispondono alle nuove normative sia in ambito europeo che in ambito nordamericano. È per questo che UL, leader nelle certificazioni, ha risposto immediatamente all'appello del Comune di Milano per essere partner tecnico in questa importante manifestazione per illuminare Milano con la nuova tecnologia LED.